grazie ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video ora tocca a voi arianna e ma... ok andiamo a provare anche questo bellissimo gioco di tap hell out hell out un gioco davvero sempre picceloso play primo andiamo a vedere è in vari livelli dobbiamo creare questi... non so come si chiamano... e portarli alle dot tipo quelli del cibo la musica è davvero davvero bella vedete ok 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 Grazie a tutti. Dai veloce, 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 perché è quasi finito il tempo a lei? Finito il livello Vorrebbe essere finito Ah abbiamo ancora 35 minuti Davvero davvero carinissimo Eh no non ce la facciamo Però abbiamo fatto un record Ok livello 2 adesso ci sarà Abbiamo sbloccato queste cose qua Con i soldi potete prendere queste cose qua Bene ragazzi grazie di averci seguito E vi ricordo se vi piace questo gioco qua Di avere questo Point on Party Un bellissimo bellissimo gioco Per chi piacciono i colori E riuscire a portare velocemente Il mangiare o altre cose alla gente Per questo è tutto Sempre e soltanto Nintendo Ciao 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 Grazie a tutti.